Sembra proprio che chi avesse l'intenzione di praticare l'autoerotismo o, per meglio dire, la masturbazione detto in termini più gergiale, lo potrebbe fare. Secondo quello che stabilirebbe il decreto LGS, il decreto legislativo numero 8 del 2015, non ci sarebbe dunque più una condanna per atti oscene per effetto della depenalizzazione di questo reato. Contenuta all'interno di questo decreto legislativo numero 8, ripeto, del 2015, nei confronti di chi si apposta nei luoghi frequentati da ragazze per masturbarsi davanti ai loro occhi. La Cassazione, infatti, avrebbe preso atto di quanto previsto dalla recente riforma e avrebbe annullato senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come al reato. La condanna inflitta di recente da parte della Corte d'Appello di Catania il 14 maggio del 2015 a un uomo 69enne il quale sarebbe stato rinviato a giudizio. E per quale motivo vi starei chiedendo? Perché l'uomo avrebbe estratto il suo pene e avrebbe praticato la masturbazione, si sarebbe masturbato, si sarebbe praticato l'autoerotismo dinanzi a delle innocenti studentesse ragazze che frequentavano la cittadella universitaria nei pressi nella quale lui si sarebbe appostato. L'essere uomo però sarà infritta solo ed esclusivamente una sanzione pecuniaria, quindi una sanzione prettamente, meramente di natura economica, parliamo di soldi, potrebbe essere compresa tra i 5.000, da come si legge nel web, euro, ripeto 5.000 euro, e i 30.000 euro. A decidere quanto eventualmente costui dovrà eventualmente pagare, risarcire, sarà il prefetto della città siciliana, Sicula. Il primo e il secondo grado l'uomo sarebbe stato condannato a tre mesi, che poi però sarebbero stati convertiti in una multa pari a più di 3.000 euro. Adesso però gli effetti penali attuati nel passato di questa persona sarebbero stati estinti, sarebbero stati scomparsi. Grazie per l'ascolto. Dunque una situazione molto particolare, penso che molte persone saranno rimaste sconvolte da questo decreto legislativo numero 8 del 2015, che di fatto depenalizzerebbe per così dire la masturbazione, il compimento di autorotismo dinnanzi a delle fanciulle attraverso questo decreto legislativo numero 8 dell'anno 2015, quindi piuttosto recente, siamo attualmente al 2016. Vedete, da parte mia, se doveste chiedermi tu cosa ne pensi di narratore italiano, io vi posso rispondere che di questa situazione qua mi piange il cuore, nel senso che penso che chi utilizza per così dire la propria mascolinità, tiri fuori il proprio organo sessuale, che non debba esibirlo, debba rimanere per le sue, non debba farlo vedere in giro, anche perché può non piacere, come se una persona, tra virgolette, secondo la mia opinione, venisse violentata, sarebbe costretta a vedere qualcosa che magari in quel momento non vorrebbe vedere, come una sorta di violenza non fisica, cioè da dirlo, questo sempre secondo la mia opinione, però è una violenza che io reputo, quindi io nel medesimo reputo come una violenza di natura psicologica, perché una ragazza non penso che voglia vedere l'ordero genitale di un uomo, se eventualmente una ragazza avesse la voglia, l'intenzione di vedere un uomo, lo farebbe, cioè l'ordero di un uomo, il bene di un uomo lo farebbe sicuramente, come la penso io, nel letto dove si può consumare un eventuale rapporto sessuale, ma non certo nel pubblico e non certo così alla sinfasona. Bene, questo è quello che penso, iscrivetevi, commentate, questa è la mia semplice opinione, l'ho espressa come sancisce l'articolo 21 della nostra Costituzione, secondo cui l'Unione è libera di esprimere le proprie giudizie, le proprie opinioni, le proprie idee, nel rispetto degli altri, nel rispetto anche di quelle che vengono chiamate come le norme di colloquio e di buona civiltà. Bene, questo è quello che penso, ripeto, iscrivetevi, commentate e un caro saluto dal narratore italiano.